Allora direi che l'Italia può dirsi molto soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo, avevamo lavorato molto e molto bene sulla bozza di conclusioni che sulle questioni di rimenti e più importanti non ha subito modifiche durante la discussione del Consiglio, quindi sia per quello che riguarda le materie economiche con il richiamo all'implementazione particolarmente dell'elemento che più ci interessa che è la flessibilità dei fondi di coesione, dei fondi PNRR, la materia della governance che per noi è materia fondamentale da risolvere entro la fine di quest'anno e che ovviamente deve tenere conto degli obiettivi strategici che l'Unione si dà, se l'Unione lavora sulla transizione ecologica, se lavora sulla transizione digitale, se lavora sul sostegno ovviamente all'Ucraina, poi deve tenere in considerazione quegli investimenti nelle sue regole di governance, mi pare che anche su questo ci sia una sensibilità diffusa, sulla materia migratoria anche avete visto il richiamo in queste conclusioni che dimostra non solo la conferma di un cambio di passo che abbiamo impresso nello scorso Consiglio europeo, ma anche il fatto che oggi la migrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell'Unione europea con il passaggio che viene richiamato all'implementazione degli obiettivi che abbiamo deciso nell'ultima riunione e una verifica di quell'implementazione nel prossimo Consiglio europeo di giugno, quindi c'è un lavoro che va in continuità che dimostra che non si trattava di uno spot o semplicemente diciamo di un'iniziativa singola, chiaramente stiamo lavorando sulla concretezza di quegli strumenti con risultati che a me sembrano oggettivamente molto buoni e che dimostrano una buona fede nella volontà di affrontare questa materia, quindi direi che complessivamente possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto.